Siamo qua con Emilio, tra un'oretta comincia la partita, Emilio che arriva da Torino, quindi insomma è qua vicino, segue la Juve da sempre. Sì, è uno stadio che è in televisione, sono Juve member da tre anni, rinnovo tutti gli anni e sono fiero di essere parte della Juventus member. Ecco, se dovesse fare un regalo a qualcuno, regaleresti Juventus member? La risposta è scontata. Certamente, Juventus member, agli amici più cari e anche agli amici. Perfetto, ci vuole raccontare anche le emozioni che hai provato stasera? Ti abbiamo visto particolarmente emozionato nel tunnel, negli spogliatoi? Ma guarda, ero emozionato in campo quando ho visto passare giocatori come Aquilani, come Milos, come lo stesso Giacquinta e anche da sportivo vedere i giocatori avversari mi ha fatto molto piacere. Benissimo, grazie Emilio. Ora siamo qua con Francesco che stasera assisterà a Juventus Roma, lui che è romano. Lavoro a Roma, origini casertane, quindi ancora più giù, ma per lavoro a Roma. Però hai fatto 400 chilometri, anzi di più, 800 chilometri e vieni fin qua. 800 chilometri, sì. Quindi, insomma, l'amore per la Juve non ha confini. Questa occasione era unica e irripetibile, quindi non potevo lasciarmela sfuggire. Senti, vuoi raccontare a tutti gli altri member che ti stanno vedendo in questo momento come utilizzi Juventus Member? Cioè, quanto è importante per te far parte di questa famiglia bianconera? Per me è tantissimo, perché dà modo di scambiare opinioni, di confrontarsi con altri tifosi di altri paesi, altre città, modo di ripensare su campagne acquisti, trasferte e anche la violenza purtroppo negli stadi, che cerchiamo di combatterla facendo la tessera del tifoso. Ci puoi dire quanti amici hai su Juventus Member? Le hai contate? No, perché tra Facebook e di cui abbiamo anche una pagina che abbiamo fondato noi, Dimensione Uwe, che abbiamo quasi 7.000 iscritti. Quindi, un'ottima pagina. Grazie. Siamo con Ivan dalla provincia di Mantova, questa sera è venuto insieme a un suo amico e ci vuoi raccontare le emozioni che hai provato toccando il campo da gioco. Una vera emozione, anche perché è una cosa inaspettata. Non sapevo bene il programma, come si svolgeva, ed è stata una sorpresa grandissima. e veniva voglia di fare uno scattino sul campo. Purtroppo questo non è stato possibile, però davvero una grande emozione. Il tuo giocatore preferito quest'anno? Devo dire Krasic per la ventata di novità che ha portato nella Juve. Speriamo che lo sia fino alla fine della stagione. Ci spiega anche tu come utilizzi Juventus Member? Quanto ci stai? Cos'è la cosa che ti è piaciuta di più fino adesso? Io entro di solito per vedere un pochino le news. Devo dire che non sono attivissimo con le chat, così anche per il mio lavoro che mi occupa molto tempo, però mi piace vedere un po' gli aggiornamenti, vedere le novità anche dei concorsi come questo. Lo uso proprio per un mio aggiornamento sulla Juventus quotidiana. Nei blog dove ci sono le discussioni, ci vai, dici anche la tua? No, dico la verità, ecco, da questo punto di vista non sono portatissimo ad entrare, anche perché lo vedo proprio come una mia curiosità. Ci prometti solennemente in questo momento che lo farai? Sì, sicuramente sì, dopo questo lo posso promettere. Sì, sicuramente sì, sicuramente sì. Sì, sicureramente sì, sicuramente sì, sicuramente sì. Grazie.